Primo, attivare l'impegno dei cattolici in politica perché sembra che gran parte del mondo cattolico primo, abbia rinunciato alla formazione e all'impegno sociale e politico. Secondo, sembra che non abbia più bisogno di rappresentanze che rispecchino le sue richieste e si affida così un po' al caso, ma noi sappiamo dall'esperienza che rappresentanze politiche non in sintonia con determinati valori umani ed anche evangelici non si fanno carico di questi valori. E allora è necessario per i cattolici riconsiderare quel dogma che l'ha dominato, e cioè il dogma della diaspora. Innanzitutto considerando quelle che sono le condizioni del vivere democratico, che esige innanzitutto l'osservanza di alcune regole procedurali, tra le altre appunto il principio della rappresentanza e in secondo luogo il principio della maggioranza. C'è bisogno in politica di essere piuttosto concreti con i piedi per terra, non si può pensare di influire nei parlamenti pluralisti senza un minimo di massa critica tra persone di buona volontà, anche liberali che credono nella libertà ma anche nei valori della solidarietà e della giustizia sociale, tra cattolici e così via, in modo da formare delle alleanze o trasversali, oppure all'interno di qualche partito dove ci si trova, di modo che si possa effettivamente incidere e non essere irrilevanti. La comunità cristiana in quanto tale che deve formare le coscienze anche con questa valenza di tipo sociale. Sull'altro versante invece credo che sia importante favorire tutto quello che si può in una fase non pre-politica come erroneamente per anni si è detto quasi costituire un alibi che non si poteva impegnare in politica, in una fase pre-partitica, cioè prima della scelta diretta dei partiti o anche mentre si scelgono partiti e formule diverse di presenza, è necessario che i credenti che hanno questa identità e questa preoccupazione di dare un contributo positivo al Paese si incontrino sul tema della cultura politica e dell'elaborazione di cultura politica. Alcuni aspetti sono fondamentali, ma dietro le leggi ci sono visioni elaborate e queste elaborazioni vanno messe insieme. Ecco, se ci fosse questa forza io credo che poi ognuno liberamente farà le sue scelte da politico o da elettore, però indubbiamente metteremmo di fronte alle persone una situazione più elaborata. Avere teorizzato e facilitato la diaspora ha portato ai risultati. Oggi occorre ricomporre, perché è evidente che la prima soluzione, quella del dopoguerra, non è più proponibile. Nessuno pensa più fare una democrazia cristiana, però questo non significa dire ai cattolici 8 settembre, tutti a casa, ognuno vada per la propria strada. Bisogna ricomporre e chiedere il consenso politico, non tanto sulla base del presupposto di matrice, ma sulla base di un progetto politico ben definito, non astratto e ricco di contenuti. Io sono dell'idea, ma non sono solo io, che se questo venisse fatto, e spero che venga fatto, il successo sarebbe garantito.